Fermato dalla finanza aveva 600 grammi di metallo e 13 mila euro sospetti in auto. Nei guai è finito un orafo 56enne di Castiglion Fiorentino. Gli uomini delle fiamme gialle a rettine lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto in Valdichiana. Non è stato un controllo casuale, il profilo del 56enne era già stato attenzionato. Nell'abitacolo i finanzieri hanno ritrovato oltre 600 grammi di oro puro in lamene di dubbia provenienza e tracciabilità. E' anche 13 mila euro in contanti e documentazione extra contabile. L'uomo aveva una partita IVA corrispondente ad una ditta orafa con sede a Capolona chiusa ad inizio 2018. Il sospetto delle fiamme gialle è che l'uomo continuasse a commerciare in un circuito sommerso. Sia il metallo prezioso privo dei marchi di legge identificativi che il denaro contante sono stati sequestrati. Il 56enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione. Sono in corso gli approfondimenti di natura fiscale.